Musica Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Cerise Alprimo E oggi vi parlerò di un gioco che ha smesso di essere famoso subito dopo l'uscita Ovvero Fall Guys Fall Guys, se per chi lo conosce o per chi non lo conoscesse E' un gioco che è uscito durante le vacanze estive, più o meno Ed è diventato famosissimo, tutti i youtuber ci facevano video, gente ci giocava, ci faceva live I glitch e tanta roba Però è passato un po' di tempo, anzi neanche una settimana o due Forse anche meno, non lo so E poi è arrivato Among Us E Fall Guys è sparito E' sparito, nessuno l'ha più cercato Eccetera E quindi Among Us ha sostituito Fall Guys Quindi non capisco che cosa sia successo a Fall Guys Cioè, prima era un gioco famosissimo Tutte le persone ci ha giocato tantissimo Ogni giorno E poi hanno smesso subito dopo qualche settimana Cioè, adesso se vado a cercare su Youtube Non trovo più gente che fa video su Fall Guys Non c'è più nessuno, zero, zero di niente Mentre se andate nei giorni precedenti L'ultimo video di Fall Guys di qualche Youtuber O che ne so Capitan Blazer Il suo ultimo video di Fall Guys risale molto tempo fa Durante le vacanze Circa E quindi adesso voglio farvi vedere un'espezione Del gioco Fall Guys per chi non lo conoscesse E poi torniamo qua in studio Così lo chiamiamo Ragazzi siamo sulla webcam Ok, adesso guardiamo questo video di Fall Guys Di Favij Ho tolto il volume così non mi arriva il copyright Vi faccio vedere un po' Fall Guys per chi non lo conoscesse È un gioco dove ci sono tantissimi giochi Che arriva primo all'ultimo gioco Vince, ottiene diversi premi Non lo so bene Io non ci gioco Cioè non ce l'ho Fall Guys Quindi non lo conosco bene bene Quindi Favij salta qui Qui Poi salta qua Ci sono diverse Diversi giochi Che si possono partecipare In questo gioco Come Se perdi Deve iniziare tutto da capo Una rottura Però Vi mando avanti il video un po' Milla Favij Oddio Ok Qualificato Si è Qualificato Favij Quindi Ottimo Questo è un altro gioco Dove devi raccogliere delle uova Però Io credo che Abbiate capito tutti Vero? Avete capito tutti Più o meno Fall Guys Com'è E che cosa si fa Ok raga vedo che comunque Non Non avete Lasciato il video Troppo presto Quindi Direi che possiamo continuare Allora Scrivete nei commenti Se Fall Guys A voi piace Perché non lo conoscesse Questo video Vi servirà per capire che cos'è Se siete da console Dovete installarlo Però Credo che sia a pagamento Fall Guys Non lo so Non ci ho mai giocato Ho cercato anche sul Play Store Ma credo che Quali sono delle Pippe di giochi Che Sul Play Store Del telefono Che siano Tutti falsi Di Fall Guys Non lo so Ho cercato Di installarle Diverse copie Comunque sia Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Attivate la campanella Su Tutte le notifiche Noi ci vediamo In un prossimo video Oh